Presidente Zaia, secondo lei è finito il patto del Nazareno? Di fatto sì, non serve che lo dica il sottoscritto, ma lo dicono ormai tutti gli osservatori. Il momento in cui Berlusconi sostiene la maggioranza di Renzi, la sostiene su molti provvedimenti, non ultimo la legge elettorale, poi trovarsi un bidone del genere, non a caso oggi il giornale, il giornale di Berlusconi, con titoli forti e soprattutto Berlusconi annuncia che sarà opposizione dura. Questa è la dimostrazione che il patto del Nazareno è chiuso. Mattarella ormai è definitivo? Sembra di sì, però l'esperienza ci insegna, vedi l'ultima volta con l'elezione di Napolitano, che tutto quello che era definitivo poi si è dimostrato un flop pauroso con le macerie che tutti noi abbiamo visto. Prova ne sia che i presidenti di regione sono saliti al collo a chiedere a Napolitano di fare un ultimo sforzo di fare almeno un paio d'anni. Detto questo staremmo a vedere, certo è che le prossime 24 ore sono ore decisive. Quale importanza ha questa votazione per il Veneto? Per noi è cruciale, visto e considerato che il Presidente della Repubblica fa la differenza. Fa la differenza perché se tu hai un Presidente che crede nel federalismo, che crede nell'autonomia, fare in modo che la Costituzione sia modificata in maniera tale che il Veneto non sia più, il Veneto, la Lombardia, insomma il Nord non sia più la periferia dell'impero, non sia più una colonia che paga a Roma e basta, ma che abbia la sua autonomia. In questo momento il governo che propone Mattarella è lo stesso governo che propone con la modifica della Costituzione di svuotare totalmente le regioni e introdurre una nuova clausola che è quella della supremazia statale. Se poi andiamo a vedere nello specifico la riforma, sempre la riforma prevede della Costituzione, prevede l'applicazione di costi standard solo per le regioni del statuto ordinario e non per la Sicilia, ad esempio, che continuerà quindi ad avere 22.000 forestali e non 400 come il Veneto.